Siamo con Sergio Castelluccio, appena eliminato dall'IPT. Sergio, come è andata gli ultimi due colpi? Mi hanno spostato di tavolo e ho iniziato a perdere un po' tutti i colpi. Ho visto sempre delle mani buone, mani forti, che non ho abbandonato pre-flop. A volte forbettavo, a volte debettavo. Ho perso una serie di colpi di fila, finché da 5.60 mi sono trovato con 340.000 in un colpo, in cui a 9.9. Apro io con uno squeeze, decido di fare il gol, esce 7-3-3 al flop, cerchiamo tutti. Un altro 3 al turn, metto 40, l'avversario fa mini-resa 80. E a quel punto era l'avversario che ha flattato da terzo, non lo so, mi vedo abbattuto veramente solo da 7-7 e 10-10 al limite, jack-jack che non ha trippettato. Ma era molto difficile avesse 10-10 jack-jack, perché sullo squeeze, sul colmi, non lo so, quante volte fa il colpo con quelle mani. Era un po' più difficile, insomma, per l'azione che c'era stata. Per cui ho deciso di fare col, aggiungere i 40, poi su un pot di 300 al river, esce donna, lui mette 130 e metto anche qui, alla fine a malincuore, a 9.9 lui 7-7. Sono rimasto colto a 100.000 e poi il bottone è aperto sui B4-8, io avevo 102.000, io mando tutto con K9 e trovo a so donna e donna a forte. Grazie Sergio, alla prossima. Ciao.